Ciao da Avsim! Quando non ci sono giorni di riposo anche la Juventus si allena, ovviamente con gli allenamenti di questo finale di stagione che Allegri ha definito molto importanti perché si può migliorare, si può crescere, si deve lavorare in maniera particolare visto che si gioca purtroppo ogni sette giorni essendo stati eliminati dalla Champions League. Ma è davvero così? Cioè davvero si sta migliorando, davvero si sta lavorando nel miglior modo possibile per ottenere i migliori risultati possibili anche da un punto di vista della crescita dei giocatori e dei giovani per partire meglio ai blocchi di partenza la prossima stagione ed essere competitivi per lo scudetto? Altra frase di Allegri oppure si potrebbe fare meglio, si potrebbe fare di più? È difficile dirlo con gli elementi a nostra disposizione ma qualcosa abbiamo, qualcosa abbiamo visto, possiamo vedere, possiamo confrontare con contenuti video di altre squadre, di altri allenamenti, di altri allenatori in giro per l'Europa e parliamo di squadre molto importanti. Faccio riferimento ad un tweet sull'account inglese della Juventus, vi metto il link in descrizione, relativo ad una parte dell'allenamento di martedì 12 aprile di questo 2022 in cui si vede un'esercitazione sui passaggi che viene definita in gergo tecnico inglese passing drills, quindi proprio esercitazione sui passaggi. In questo brevissimo video pubblicato su YouTube vediamo in primo piano Zaccaria ma poi ci sono tutte le rotazioni, quindi vari giocatori della Juve che da posizioni statiche ricevono il pallone, conducono palla per qualche metro, poi lo passano dritto in avanti al giocatore, girando in senso antiorario, al giocatore che si trova nella posizione alla loro destra. Questo giocatore riceve, quindi stoppa orientato in avanti ma non deve fare movimento di smarcamento, non deve fare movimento a venire via da una marcatura, non deve dialogare con compagni a destra a sinistra, va semplicemente davanti a fare lo stesso movimento del compagno di prima, quindi leggera conduzione e poi passaggio all'altro giocatore, all'altra posizione e così via. Questa è un'esercitazione base ma basilare ma super basilare sui passaggi. Faccio un'altra premessa che ho già fatto in precedenza avendo già parlato degli allenamenti della Juventus, in particolare di quello integrale che è stato pubblicato il mese scorso, anzi che è stato trasmesso in diretta e che è ancora disponibile sulla piattaforma YouTube, quindi sul canale YouTube della Juventus. Non sono un allenatore, non ho nessuna competenza, non ne capisco nulla in senso tecnico però sono una persona che guarda, che osserva e che analizza, riflette e argomenta e quindi vi porto anche in questo caso dei dati e delle argomentazioni. Intanto l'intensità di questo allenamento era bassissima ma veramente molto bassa, anche se il problema non è neanche tanto l'intensità perché non è che devi andare per forza a mille, altrimenti poi giustamente ci si lamenta dei troppi infortuni. Anche se gli infortuni non dipendono soltanto da allenamenti troppo intensi ma anche da allenamenti poco intensi perché poi uno sforzo più intenso il calciatore lo deve pur sempre fare, prima o poi lo deve fare e quindi se non è preparato non è che siccome è riposato non si fa male. Provate a correre un chilometro dopo che siete stati dieci ore sul divano, non è che non so come la prendete, magari non vi fate male però non è proprio la situazione ideale. E quindi al di là dell'intensità è proprio la basilarità di questa esercitazione che mi ha colpito. L'abbiamo visto, anzi abbiamo visto in realtà poi nei video pubblicati proprio qui su YouTube di questi stessi giorni anche parti un po' più complesse, quindi ci sono stati anche dei passing drills un po' più complessi con coinvolgimento di maggior numero di giocatori ma soprattutto con dinamiche diverse. Si tratta sempre degli estratti di circa tre minuti, quattro minuti che poi in realtà sono un po' un diario del giorno ma non sono dei contenuti che fanno realmente apprezzare la qualità dell'allenamento perché non ci sono immagini dall'alto, non ci sono immagini grandangolari che riprendono zone di campo, sono quasi tutte anzi inquadrature strette, zoomate perché diciamo sono appunto dei contenuti più social, più dei contenuti da far apprezzare ai tifosi che non tecnici per addetti ai lavori. Si tratta di pochissimi secondi sulle singole esercitazioni per dare un po' l'idea e per esempio abbiamo visto che Rabiot ha fatto due gol di cui uno nella porta piccola che non c'era ovviamente non c'era il portiere su assist di Chiellini però ecco succede anche questo nell'allenamento della Juve alla Continassa. Ma ci sono ripeto allenamenti molto più definiti e dettagliati da parte di altre squadre e qui già rispondiamo alla prima obiezione di chi dovesse dire ma ti pare che la Juventus fa vedere a tutti quanti quali sono le esercitazioni tattiche che fa così tutti possono, gli avversari naturalmente, allenatori avversari possono studiare le tattiche della Juve ed è finita perché finisce l'effetto sorpresa e l'imprevedibilità e si perdono le partite. Non ha senso questa cosa sia perché troviamo ripeto ore di allenamenti di tante squadre, per la fonte che ho trovato io poi ce ne sono probabilmente anche altre e quindi ci sono squadre più evolute, più attrezzate, più forti che non hanno nessun problema a far vedere le proprie esercitazioni tecnico-tattiche, queste sono più tecniche che tattiche, sia perché alla fine, voglio dire, non è che in campo la Juve proponga chissà che cosa, chissà cosa c'è da scoprire, chissà cosa c'è da analizzare e su cui prendere le contromisure. La Juve in campo è povera, la tattica della Juve è molto povera, a livello tecnico-tattico la Juve di Allegri è molto povera e da un punto di vista proprio della dinamica della partita, tante volte Allegri ha cambiato la formazione o ha cambiato l'assetto in corsa perché era sbagliato quello iniziale, altro che l'effetto sorpresa, l'effetto sorpresa noi ce l'abbiamo di solito al contrario. Poi ripeto, non sono la persona più indicata per giudicare dal punto di vista tecnico, però vi porto degli esempi e quindi vi suggerisco, dopo aver guardato, se volete qualche video degli allenamenti della Juventus qui su YouTube e l'estratto video che vi linko in descrizione a Twitter, vi suggerisco di andare sul canale Dario Grabusic, football coach, canale di questo canale YouTube, Dario Grabusic, che ha del materiale importante di allenamenti del Manchester United, del Chelsea, del Bayern Monaco, di tante altre squadre, il Bayern Monaco di Ancelotti, il Bayern Monaco di Flick, il Bayern Monaco di Nagelsmann, ovviamente il Chelsea di Tuchel, e ci sono allenamenti proprio sui passing drills, cioè sulle esercitazioni di passaggio, ma anche su tante altre cose, spiegati anche con le grafiche, se voi andate a vedere i passing drills, ripeto, cioè mostrati palesemente, mostrati palesemente, per esempio di Nagelsmann, vediamo che c'è una differenza totale, abbiamo anche allenamenti dell'Ajax, ma in generale anche su YouTube, non solo su Dario Grabusic, trovate esercitazioni anche del Liverpool, del Wolfsburg, Nagelsmann, Flick, Ancelotti, Tuchel e tanti altri, vediamo che l'esercitazione sui passaggi, anche a bassa intensità, anche a bassa intensità, non è che si tratta solo di correre a mille, anche a bassa intensità o a intensità normale, prevedono l'impiego di sei giocatori, alcuni di questi prevedono l'impiego di sei giocatori, per cui si trovano due giocatori a un'estremità, due giocatori ad un'altra estremità e due giocatori, anzi, praticamente tre e tre, ecco, due più uno e due più uno, con due che in mezzo si muovono, quindi in realtà anche otto giocatori, quindi due partono insieme, conducendo il pallone da un'estremità e poi devono scambiarsi il pallone con il giocatore che sta nel mezzo, che lo restituisce all'altro giocatore, con uno schema prefissato che sembra quasi una macchina, cioè sembrano quasi un sistema, un ingranaggio perfetto, non sbagliano un colpo, possono magari sbagliare il singolo passaggio, ma a chi devono passarla ce l'hanno perfettamente in testa, non sono giocatori pensanti, sono giocatori che eseguono, perché hanno già l'esercizio pensato dagli allenatori, che gli dicono, devi fare questo, gli dicono, porta il pallone, poi lo passi qua, lui lo passa a te, là, tu lo passi a quell'altro, e quindi si allenano a che cosa? A risalire il campo insieme, a tenere d'occhio il compagno, a passare corto, a giocare di prima, a scaricare, ma c'è anche un'altra esercitazione fatta con le sagome, dove il tutto, quindi questa rete di passaggi, questa esercitazione sui passaggi, viene sviluppata anche andando a migliorare lo smarcamento, proprio c'è il movimento che fanno i giocatori, se andate a vedere, è quello di stare spalle alla sagoma e liberarsi sempre dalla stessa parte, ricevendo il pallone, quindi facendo il movimento ad andare via dalla marcatura. Sono esercitazioni molto più complesse, molto più evolute. Ora, io non dico che la Juve non le faccia, dico che la Juve non ce le fa vedere, e nel momento in cui un allenatore è bravo e viene anche criticato per la scarsa complessità tattica dei suoi schemi, io penso che dopo un po' qualche contenuto in più lo fa anche vedere, dice, mostriamo un po' che stiamo facendo un buon lavoro, senza fare spoiler, perché alla fine che spoiler è di vedere che Nagelsmann allena il Bayern Monaco in questo modo, nessuno, perché parliamo anche di video di marzo 2022, quindi allenamenti recenti, perché alla fine sono esercitazioni che non sono specifiche sul sistema di gioco, sono esercitazioni che sono specifiche sull'aspetto tecnico, su un aspetto tecnico che è quello di appunto correre accompagnando il compagno, quindi in parallelo, di scambiare sul corto, ma non ti dice come giocherà la squadra in campo, ti dice a che cosa si prepara la squadra a livello tecnico. Un allenamento che ti può più svelare qualche tattica, può essere una simulazione in partita, può essere una partitella, così come può essere magari un allenamento specifico, ecco, sui cross, sui calci piazzati, perché lì vedi, allora, sul calcio piazzato, loro hanno questo schema, crossano prevalentemente sul secondo palo, allora la squadra avversaria dice, loro crossano sul secondo palo, ma quello poi lo vedi anche in partita, si vede anche in partita, e il materiale video non è quello che abbiamo noi, il materiale video è cento volte di più di quello che possiamo reperire noi gratuitamente, basta chiedere a qualsiasi allenatore che sta studiando, a qualsiasi tecnico che sta studiando, o anche a chiunque sta studiando per entrare nel mondo del calcio come match analyst, come direttore sportivo, ci sono piattaforme video piene di materiale, e pensate che gli allenatori di massimo livello non abbiano accesso a questo materiale su tutte le squadre e non vadano a studiare comunque come gioca la squadra che dovranno affrontare, solo perché la Juve non pubblica i video degli allenamenti per non fare spoiler, è ridicolo, e bastano le analisi delle partite, non c'è bisogno neanche di andare troppo nell'allenamento, perché un allenatore bravo da un'analisi della partita capisce come si è allenata la squadra dietro, può non capirlo al 100%, ma capisce quali sono gli elementi fondamentali, quindi non si tratta di non fare spoiler, si tratta di allenarsi bene, e vedessimo nella Juve in campo un gioco particolarmente pregevole, quindi schemi importanti, diremmo vabbè, alla fine comunque in campo la Juve gioca bene, quindi non è che c'è questo grosso problema di allenamenti, evidentemente il problema di allenamenti c'è invece, e allora questa esercitazione sui passaggi basilare non si dovrebbe proprio vedere alla Juve, cioè non si dovrebbe proprio fare, perché non serve a molto, si può fare una stessa esercitazione, un'esercitazione sui passaggi, alla stessa intensità, non è per forza che devi correre tantissimo, ma con un grado di complessità superiore, che ti allena anche dal punto di vista tattico, allo smarcamento, al proporsi ai compagni, ripeto, a tanti aspetti che non possono essere allenati con quella esercitazione che abbiamo visto nell'estratto video su Twitter. Parlando di intensità, e chiudo, mi ha colpito il fatto che nella giornata di ieri, 13 aprile 2022, il report sull'allenamento della Juventus, sull'allenamento mattutino, ha fatto riferimento ad un allenamento ad alta intensità. Ecco, intanto scrivere abbiamo fatto allenamento ad alta intensità, equivale ad ammettere che tutti gli altri allenamenti non lo fossero, non fossero ad alta intensità, e quindi poi vediamo una Juve in campo che cammina, una Juve che in campo cammina, ed è un problema anche di un po' di tutto il calcio italiano. Infatti, se andate su juventus.com e cercate alta intensità, per quello che ho potuto vedere io, escono quattro post su allenamenti di questa stagione, quattro, di cui due sono del mese di agosto, quindi non contano, perché è chiaro che nel mese di agosto fai la preparazione atletica, e lì l'alta intensità la devi mettere per forza. Nel corso della stagione, alta intensità è una stringa che è menzionata due volte, di cui una ieri. Per il resto, evidentemente, gli allenamenti della Juve sono stati a intensità più bassa. Non dico che è stato un errore, può darsi anche che si sia fatto bene così, però, ripeto, se vedessimo una Juve che funziona, se vedessimo una Juve efficace, se vedessimo una Juve dinamica, grintosa, ad alti ritmi, diremmo, ok, vuol dire che così funziona. Evidentemente si doveva fare qualcosa in più. Sono molti di più, invece, i post sul sito della Juventus con la frase alta intensità, riferiti agli anni scorsi, ad allenamenti anche della Juve di Allegri, del quinquennio di qualche anno fa. Evidentemente, in questa stagione, l'intensità è più bassa, ma anche la complessità degli allenamenti, come abbiamo potuto vedere da alcuni documenti video. Grazie per la vostra attenzione, buon dibattito nei commenti, soprattutto ai tecnici, a quelli preparati che studiano, hanno studiato, ne capiscono e che approfondiscono anche i contenuti tattici e le preparazioni degli altri allenatori. Ringrazio la chat degli abbonati, gli abbonati, la community degli abbonati, che nelle chat riservate su Discord ha sviluppato e sviluppa quasi quotidianamente questi argomenti e per farne parte vi basta abbonarvi al canale a soli 99 centesimi al mese. Avrete anche altri vantaggi, come per esempio la programmazione quotidiana con orari e argomenti dei nuovi video in uscita. Intanto mettete like a questo video, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi contenuti. Ci vediamo molto presto e sempre forza Juve! Grazie a tutti!